Continueremo con il 28 uno spettacolo di teatro, il 29 uno spettacolo di Sebastiano Morco, un memoria, un ricordo di lui e Pirandello, c'è tutti i 40 anni della sua esperienza che è ingentrata proprio sullo spettacolo di Pirandello e poi chiuderemo questa settimana di celebrazione con il premio Stata degli Iscrittori che sarà il 30 di giugno, sempre lo spazio teatro, meno se le 21 e saranno poi premiate e lo comunicheremo nei prossimi giorni alcune autorità, personalità di rilievo, nazionale e anche internazionale che hanno un riferimento diretto con Pirandello. Grazie a tutti.